Dopo Noa, Pescara, Rocco, Papaleo, a Teramo, continua l'odissea, è proprio il caso di dirlo, della società aquilana dei concerti Baratelli, costretta ancora una volta a spostare un appuntamento del cartellone in un'altra città. A nulla è servita dunque la conferenza stampa di qualche settimana fa del maestro Giorgio Battistelli, l'auditorium della finanza non è ancora disponibile e la società ha deciso di non cancellare la data del 3 dicembre. Il concerto spettacolo Forse non sarà domani, vita e canzoni di Luigi Tenco con Rocco Papaleo, in programma nel cartellone della Baratelli per domenica 3 dicembre, si svolgerà nella data prevista, quindi al Teatro Comunale di Teramo con inizio alle 18.30 anziché all'Aquila, grazie alla collaborazione con ACS Abruzzo Cultura Spettacolo. Felicemente in bilico tra la dimensione teatrale e la vocazione cantatoriale, Rocco Papaleo ripercorrerà un pezzo della storia musicale italiana, svelando il legame sincero tra lo spirito di Luigi Tenco e il suo straordinario messaggio d'autore, a 50 anni di distanza a quella vicenda a Sanremese ancora avvolta da un doloso alune di mistero. Le musiche di Luigi Tenco sono rielaborate da Roberto Molinelli per la band formata da Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al contrabbasso, Marco Saniglia alla tromba e Davide Savarese alle percussioni. Attraverso brani più o meno celebri, lo spettacolo, che già nel titolo ripropone il senso dell'omaggio alla canzone di Tenco, racconterà il pubblico di ogni esperienza dell'artista fuori dagli schemi. Nonostante gli sforzi possibili che la Guardia di Finanza stessa e il Comune dell'Aquila abbiano messo in atto, ancora non si trova però una soluzione per la disponibilità dell'Editorium Florio, unico spazio nella città dell'Aquila a poter ospitare eventi di grande affluenza. E così, come già accaduto con il concerto di Noa, dicevamo, il 6 novembre scorso, realizzata a Pescara, anche in questo caso la Barattelli ha deciso di non cancellare la data programmata da oltre un anno e pensate in uno spazio, quale l'Editorium Florio, che dal 94 ad oggi è sempre stato disponibile ad accogliere grandi eventi. Anche per questa occasione sarà cura della Barattelli mettere a disposizione numerosi autobus per gli abbonati e per il pubblico che avrà acquistato il titolo d'ingresso negli uffici dell'Ente. I biglietti sono disponibili sia all'Aquila che a Teramo.